Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Partiamo ancora dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla 1 panoramica si segnala che stanotte per lavori di manutenzione delle gallerie in orario 21.6 rimarrà chiuso il tratto tra Aglio e Pian del Voglio in direzione Bologna. In Fipili invece a causa di lavori rallentamenti tra Lavoria e la diramazione per Pisa in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia a causa di un incidente si segnalano code con chiusura del tratto compreso tra Gavorrano e Gavorrano Scalo in direzione Roma. Città di Firenze per lavori di adeguamento della rete idrica fino al 31 agosto piazza Rodolico rimarrà chiusa tra via Livenza e via del Cimitero del Pino sul confine con Bagno a Ripoli. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!